Buongiorno! Eh, chi non muore si rivede! Eh, ci sono i pro e i contro, eh! È qui da tanto? Sì. Tanto, tanto? Sì. Tanto, tanto, tantissimo? Guardi, quando sono arrivato stavano portando via un tirannosauro. Veramente? Eh, sì, stava litigando con un mammut perché gli aveva mangiato una siepe e si era offeso. Oh, poverino. Mi scusi, ma il tirannosauro non è un carnivoro? La siepe era il contorno, era. Ah, ecco il contorno. Ah, certo. Oh, certo. Scusi, è il mammut dov'è? Da Spielberg per un provino. Ah, sì? Per giurarsi il park 3? No, il 4. Il 4. Speriamo che lo prenda. Ah, così bravo era. Così bravo. Ma cosa sta dicendo? Ma senta un po'. Ma che mammut, che tirannosauro, che Spielberg. Sono qui da mezz'ora sono. Allora si è perso mentre portavano via il tirannosauro. Eh sì, sono arrivato che era appena successo, era. Guardate qua che sfortuna. Oh, che peccato, eh. Come passa il tempo? Eh, a volte anche un po' meno, eh. A volte un po' meno. Oggi non lavora? Ho preso un giorno di ferie. E che lavoro fa lei? A Giusto TV e Radio. Oh, complimenti. Grazie. Che lavoro pericoloso che fa lei. Ce ne vuole di coraggio, lei è un eroe. Senta un po', non esageriamo adesso. No, ma dico per via dell'elettricità. È un attimo rimanere attaccati, eh. Lei ha mai preso la scossa? Sì, una volta l'ho presa. È stato un incidente? No, l'ho fatto apposto, l'ho fatto. Ho ciucciato un fusibile per vedere se scattava il salvavita. Insomma, ne ha di coraggio lei, eh. Eh, guardi, siamo in due a farlo. Io e un altro a Toronto. Un altro a Toronto, in due. Eh, sì. Eh, insomma. Beh, diciamo che oggi i TV non costano più niente, eh. Vai nei negozi, te li tirano dietro i televisori. Guardi, a lei sicuramente. Un bel 48 pollici con tanto di DVD, eh. Mi scusi. Ma per misurare un 48 pollici ci vogliono 48 persone. No, ne bastano 24. Sa, ogni persona ha due pollici. È vero, non c'è. È inutile che poi uno stia lì a girarsi il pollice. Eh, certo. Eh, insomma, in un televisore ce ne va di mano d'opera, eh. Cioè, dito d'opera. Eh sì, perché se era tutta la mano è mano d'opera, ma sono soli pollici. È dito d'opera. L'ha capita? È bellissima. È una battuta. È bella proprio, eh. Ma che meraviglia. Ma sono contento. Ma bella, ma bella, è una proprio bella, eh. Si è divertito? Eh, guardi, pensavo di non andare neanche più ai Carnevali di Rio, guardi. È certo. Dal tanto che mi son divertito. Cosa fa? Ha un capello. Lasci stare, l'ho messo qui stamattina. Eh, ma mi nervosisce parlare con uno che ha i capelli sulla giacca. A me nervosisce parlare con uno che ha il cervello a casa, eh. Non mi tocchi, non mi tocchi, lasci stare. Non mi tocchi. Tenga. Grazie. Ecco qua. Grazie. Lo lasci lì che magari, se lo lascia lì, magari sa com'è il capello. Lo lascia lì, magari fa le radici come le patate americane. Poi ogni tanto mette un po' di ovatta e lo innaffia. Eh, facevo così per dire. Ah, Jesus. Scusi, è un ombrello da donna? Sì, me l'ha prestato mia sorella. Posso vederlo? Prego. Oh, che bello. E sua sorella lo usa quando piove? No, mia sorella è Mary Poppins, eh. Lo usa per andare in ufficio, lei. Ah, ah, Mary Poppins. Eh, certo. Beh, comodo, eh. Eh, comodissimo. Eh, sì, perché ho visto tu. È in ufficio. Eh, sì, così non è neanche... Non è neanche il problema del parcheggio, così. Eh, no, ma sta un porta ombrelli, allora. Un porta ombrelli, c'è. Certo, ma te guardo un po' Mary Poppins. E quindi anche lei di cognome fa Poppins? Eh, certo. Sicuramente è Alessandro Poppins, sono io. Alessandro Poppins. È un cognome italiano? Umbro, eh. Umbro. Foligno è piena di Poppins. Ah, sì? Poi verso Spoleto sono tutti gulli. Ma ecco perché sono così alti. E a Perugia Goldrake e Hactarus, la maggior parte. Eh, certo che deve essere bello, eh. Dico, fare come sua sorella. Poter aprire l'ombrello e potersene andare via, lontano, lontano. Farsi portare dove ti porta il vento, lontano, lontano. Ecco qua, si concentri. Allee, Franza! Allee, Franza!